Il governatore Vincenzo De Luca, lo sapete, dice di volersi candidare per il terzo mandato a prescindere da quello che sarà la decisione del Nazareno e delle altre forze della coalizione di centrosinistra. La domanda è quanti lo seguirebbero? E' chiaro che un consigliere di maggioranza uscente, riferimento del Partito Democratico piuttosto che di un'altra forza della coalizione di centrosinistra, molto difficilmente potrebbe scegliere di seguire il governatore in questo salto nel vuoto. Dunque, da un punto di vista politico, è chiaro che De Luca sta giocando una partita, come sa fare molto bene, nella consapevolezza che il suo punto di forza è la possibilità di far perdere il PD e quindi le forze della coalizione, qualora non dovesse ottenere il sostegno da parte del Nazareno, ma molto difficilmente avrebbe la forza di imporsi nelle urne. Quindi, in qualche misura, la spaccatura tra il Partito Democratico e il governatore De Luca si risolverebbe in un assist per il centrodestra. Questa è la vera partita che si sta giocando e non è una ipotesi, è un dato di fatto, perché nessun consigliere regionale che sta all'interno di una forza politica sarebbe disponibile a disobbedire all'indicazione che verrebbe dai vertici nazionali, perché solo nel partito potrebbe avere garantita una prospettiva fuori dal partito, in caso di sconfitta si consegnerebbe all'oblio.